Giovane, anche un po' emozionato e con barba curata e tanto alla moda di questi tempi. Eccolo Michele Catarani, nuovo allenatore del centro minibasket Lucca. 35 anni, arriva ad Arezzo e nonostante la giovane età, ha un curriculum da fare invidia. Spaventoso, almeno a livello giovanile, dove il nostro, cresciuto al fianco di mostri sacri, quale Andrea Capobianco, Marco Crespi e Antonio Bocchino, ha partecipato a 17 finali nazionali giovanili, vincendo ben 5 titoli. La società Biancorossa punta molto su di lui, tanto che lo ha blindato con un contratto triennale, merce rara di questi tempi. Il primo contatto è avvenuto circa un mese fa, come ha ricordato la presidentessa Luisa Colombini-Nutti, al suo fianco in conferenza stampa assieme al DS Umberto Evangelisti. La scelta è stata facile, perché Lucca è pur sempre Lucca. Per me è un giorno importante, sono sicuramente emozionato per iniziare questa avventura. ho sposato questo progetto che la società, la presidentessa, mi ha proposto, nel quale sono stato coinvolto e sono molto motivato, perché è un progetto che guarda lontano, che sicuramente ha le stesse caratteristiche di quello che è stato sempre il mio percorso lavorativo. Io ho sempre lavorato con i giovani, questa è una società giovane che vuole crescere, che è ambiziosa, per cui mi sono identificato subito con quelle che sono le caratteristiche del progetto che mi è stato presentato, quindi l'ho accolto subito con grande entusiasmo. Intanto, entro pochi giorni, il centro minibasket scioglierà anche le ultime riserve e fornirà tutti i dettagli sulla partecipazione al prossimo campionato di Serie B. Nessuno si è voluto sbilanciare, ma in realtà il DS Evangelisti, parlando di catalani, qualcosa si lascia scappare, quasi tradito dall'entusiasmo di tornare in un campionato più consono alla grande tradizione cestistica della nostra città. E credeteci, se c'è uno che lo merita, questi è proprio Umberto. Noi siamo una società che per anni ci siamo sempre contraddistinti per il lavoro che facciamo sui giovani e quindi non poteva essere la scelta di un allenatore che ha dedicato tanto a questo e quindi la nostra società proseguirà questo lavoro sui giovani anche con una categoria diciamo importante come la Serie B.